Lei ha detto che i numeri non convincono totalmente, nel senso che quelli che sono stati certificati fino ad ora dagli uffici non corrispondono effettivamente allo stato di fatto. Guardi, secondo me no. Io ho questi due milioni e mezzo certificati che mi sono stati consegnati il giorno della mia proclamazione e sono a mio avviso facilmente smontabili da alcune situazioni che io già conoscevo in quanto consigliere comunale precedentemente e da altre per cui sono venuta a conoscenza. Guardi, basti pensare che ci sono solo almeno 4 milioni di euro di decreti ingiuntivi. Poi abbiamo delle situazioni che riguardano alcune cartelle settoriali per circa 2 milioni di euro tra IRPEF, INPS e cose varie. Poi abbiamo i debiti con l'Eco3, abbiamo i debiti con Tirreno Ambiente che sono cifre elevate e quindi 2 milioni e mezzo di euro non rientrano assolutamente. La minoranza con un volantino torna sul famoso decreto 35 sulla richiesta che doveva essere fatta entro il 3 giugno. Ho deciso di non procedere alla richiesta di erogazione di questi 2 milioni e mezzo intanto perché 2 milioni e mezzo non mi sono stati dettagliatamente certificati, nel senso che mi fu dato un elenco di numeri in colonna divisi per settore ma non ho avuto modo di capire da dove e da cosa derivassero. Detto questo poi siccome esiste 1 milione e 600 mila euro la seconda tranche del decreto legge 35 che è stata restituita alla Cassa Depositi e Prestiti di avvalere sul mutuo del Palazzetto dello Sport e lì ferma, io sono andata alla Cassa Depositi e Prestiti e ho chiesto la restituzione di queste somme. La Cassa si è dimostrata disponibile a patto che trasmettiamo un elenco dettagliato di debiti certi liquidi ed esigibili al 31 12 2012. Ho fatto richiesta immediatamente presso gli uffici, sono in attesa di questo elenco. Grazie a tutti.